Buon dia a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo fantastico Bactus, che ho deciso di chiamare Bactus Mini, guardate, è molto molto carino, per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool Linea Jack, che ha queste sfumature molto particolari, come potete vedere, e vanno dal grigio a lilla a una viola più scuro, il colore che ho usato io è il colore 19 e il gomitro è da 50 grammi, misura 130 metri ed è formato dal 47% lana, 53% acrilico, però voglio farvi vedere altri colori che secondo me sarebbero perfetti per creare questo Bactus, se volete una lavorazione con dei colori più classici, allora vi consiglio questo, che è il numero 11, ha le sfumature del grigio e del begiolino, mentre se volete dei colori più autunnali, allora vi consiglio questo, che è il colore 12, che ha le sfumature del rosso, del verde, ma anche di questo, quasi, non giallo molto cupo, non direi senape, ma è un bel giallo cupo, quindi i colori del fuoco, se vogliamo dire così, per poterla, questi filati li trovate tutti sul mio sito filati Elsa, dove vi metto in descrizione il link, e io per realizzare il mio Bactus ho utilizzato 200 grammi di questo filato, lavorando, come vi ho detto, con un 100 e il numero 5, se volete farla più grande, ma non tantissimo, vi consiglio 250 grammi, se invece volete realizzarla a modo di stola, allora in questo caso io vi consiglio anche 400-450 grammi, la particolarità di questo Bactus è che si lavora come una coda di drago, però non ha le scaglie, me la levo così potete vedere bene, ecco qui, come potete vedere la lavorazione sale da un angolo in alto, quindi non sale, solitamente il Bactus si inizia o dal basso o dal lato in alto, invece questa volta siamo iniziate proprio come una coda di drago, quindi si inizia dalla punta in alto e si lavora andando fino ad allungarla e allargarla quanto si vuole, in questa maniera, mi avvicino così potete vedere anche il punto, il punto, il motivo che ho utilizzato, il punto utilizzato è a far nascere questi sorti di triangolini, però non è una lavorazione maschile, io la definisco comunque una bella lavorazione femminile, soprattutto quando si usano questi colori molto tenui, perché comunque io li considero dei colori tenui, non sono troppo forti proprio perché comunque c'è il lilla al suo in interno, per fare questa lavorazione si fanno dei giri base, però poi nel tutorial ve lo spiego meglio, poi si vanno a fare 6 giri che permettono appunto alla lavorazione di crescere, cresce solo da un lato, proprio come si fa per una coda di drago, detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia e che desiate realizzarla, se volete realizzarla con un filato qui sottile, quindi non volete utilizzare un filato doppio ma qualcosa di più sottile, io vi consiglio il color world, che potete realizzarlo, potete lavorarlo anche con l'uncinetto del numero 4, oppure se ne volete ancora uno più sottile e tinta unita, in questo caso vi consiglio il filo folio mignon o l'alice, detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, ah, se decidete di realizzare questa Bactus, mi raccomando come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi ci vediamo quindi al prossimo video tutorial. Ciao, ciao! 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 rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto tutte le maglie alte, vado direttamente nell'ultima e vado a fare una maglia bassa, mi raccomando se state usando un filo più sottile invece di 3 catenelle andate a farne sempre 5, quindi ogni volta che mi sentirete di a me 3 catenelle voi andate a farne 5, questo se state usando un filato più sottile rispetto al mio, mi giro con la lavorazione, entro dentro la maglia bassa e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado alla prima maglia alta, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 maglie alte nell'ultima maglia alta, quindi 1, 2, 3, mi giro con la lavorazione e di nuovo da fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, mi sposto ancora un po' qui così vedete meglio, ecco, rientro dentro e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una maglia alta sulle successive 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, sull'ultima maglia alta vado quindi 1, 2, 3, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia, quindi ripetiamo, come vedete, cresce soltanto da un lato il nostro bactus, quindi come una coda di trago, mentre qui resta dritta, quindi mi giro con la lavorazione e ricominciamo a fare il nostro giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro dove ho la maglia alta di nuovo e vado a fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, mi raccomando, chi ha un filo più piccolo deve andare a fare 5 catenelle, salto 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado direttamente nella terza catenella, quindi nell'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora diciamo che questo che stiamo facendo è il nostro primo giro, quindi da qui possiamo dire che siamo a fare il nostro primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro dentro la prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, mi raccomando di farne sempre 5 che stanno facendo un filato più sottile, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, rientro, 2, e rientro, 3, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive due maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, e 3. Prendo il filo, salto direttamente la maglia bassa, vado dove ho la prima delle mie maglie alte dell'altro gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, rientro, 2, rientro, 3, una maglia alta sulle successive 5 maglie alte, quindi 1, 2, e 3, 4, 5, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, e 3, ho terminato così anche il mio terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altri 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado qui tra i gruppi di 2 maglie alte, quindi qui e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente dove all'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa, ci giriamo con la lavorazione, quinto giro, una maglia bassa sopra la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendiamo il filo e andiamo a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa sopra la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la seconda e terminiamo con 3 maglia alta sopra l'ultima, 1, 2, e 3, mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro, 3 catenelle che va con la nostra prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altri 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra l'unione delle 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, e 5, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, e 3, prendo il filo, salto la maglia bassa, vado direttamente nella prima maglia alta del secondo gruppo di maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sulle successive 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, e 5, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2, e 3, prendo il filo, prendo due volte il filo sull'uncinetto, scusate, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta doppia. Abbiamo terminato così anche il sesto giro e come potete vedere quindi la lavorazione va crescendo. Ora vi faccio rivedere un attimo come si rinizia, però potete vedere da qui, ecco qua, come si va a crescere la nostra lavorazione, quindi all'interno avremo di più di queste sorte di ventagli di maglia alta o triangoli, chiamiamo triangoli di maglia alta, quindi vi faccio rivedere il primo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientriamo dentro e ne ho fare un'altra maglia alta, 3 catenelle, salto 5 catenelle, 5 maglie alte, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado direttamente qui tra i gruppi di 2 di maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado, salto 5 maglie alte, entro nella sesta e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'ultima maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, quindi giriamo e il secondo giro sarà di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte ancora nella stessa maglia di base, 1 maglia alta sopra la maglia alta successiva e 3 maglie maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia bassa sopra la maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, 3 maglie alte sopra l'ultima, quindi saranno ancora 3 maglie alte, scusatemi, 3 catenelle, maglia bassa sopra maglia bassa, 3 catenelle e termineremo il secondo giro facendo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 maglia alta all'interno della terza catenella, quindi ricordatevi sempre che la lavorazione tende ad aumentare da un lato solo, quindi qui non dovete mai aumentare e sono sempre 6 giri, però vedete che man mano qui lavorerete di più l'interno e dovete sempre ricordarvi di non sbagliare, di lavorare senza aumenti da un lato con gli aumenti dall'altro lato. Bene, io adesso vi dirò poi alla fine quanto ho fatto lungo il mio bactus, non ho fatto nessun tipo di bordino alla fine intorno al bactus, mi piace così come è venuto, quindi ci vediamo dopo per farvi sapere quanto l'ho fatta lunga. Dunque, io ho terminato di lavorare il mio bactus, mi è venuto lungo 92 cm e vedete la forma ricorda molto quella della coda di drago però senza gli scalini, quindi senza le scaglie, è venuta quindi un triangolo, ecco così si vede bene, però la lavorazione appunto sembra quella di una coda di drago in quanto si è partito da un angolo in alto e si è arrivato a fare il lato lungo qua sotto. Mi è venuta, ripeto, lunga 92 cm, quindi come lunghezza per essere un bactus per me va benissimo, quindi adesso dovrò soltanto eliminare le codine, quindi fare in modo che non si vedano e il mio bactus sarà terminato.